La campagna elettorale è finita. Per noi è stata una campagna politica. L'abbiamo fatta senza i mezzi necessari, senza soldi né santi in paradiso, ma con una determinazione senza limiti. Abbiamo giocato alle loro regole, ci abbiamo messo la faccia per smascherare il loro gioco sporco, nelle televisioni, sui giornali, nei teatrini costruiti dal potere per il potere. Noi non siamo entrati in politica, noi vogliamo far rientrare in politica quel che è stato espulso per obbedienza al mercato al profitto. Il rifiuto dello sfruttamento e della devastazione delle persone e della natura. La politica oggi ha espulso ogni possibilità di cambiare davvero questo sistema schifoso. Ma noi non ci siamo mai illusi che potesse essere facile. Sappiamo che non è solo chiedendo che otterremo quello che ci spetta. Dobbiamo lottare, come sempre abbiamo fatto e sempre faremo. La campagna elettorale è stato un piccolo passo di una lunga marcia. Se ci vorranno distruggere come simboli, noi reagiremo insieme. Come ci insegna la nostra compagna Nicoletta Dosio, da un mese in carcere per essersi ribellata alla devastazione della Tavola. Il 26 gennaio scegli potere al popolo. Costruiamo insieme la nostra forza. Il 26 gennaio scegli potere al popolo.